Cinque volte mi ha rimandato, cinque volte. Una volta mi ha anche sospeso, perché diceva che avevo fatto casino. Invece poi era stato un balocco, solo che quello era raccomandato. Infatti avevo giocato a me stesso che una volta finita la scuola sarei andato sotto casa sua e le avrei messo lo zucchero nel serbatoio della macchina. E l'hai fatta? No, quelle cose che si dicono poi. Sentiamo, tu ce l'avevi un professore stronzo? Io sì, matematica. E che cosa gli hai fatto? Gli ho incendato l'auto. Mink.